Il Natale a Siguliana, successo per la rievocazione storica, Natale medievale nel borgo di Calat, ancora in scena nella serata di oggi. Ascoltiamo il sindaco Peppe Zambito e alcuni spettatori. Bellissimo, veramente, sì sì sì, veramente bello, mi ha piaciuto molto. Noi veniamo del Belgio e siamo veramente contenti. Molto bello, veramente. Siamo venuti qua con il bambino, il bambino si è divertito, da mangiare molto buono, bello, complimenti e tutto sicuramente. Molto bello, molto suggestivo, molto soddisfacente pure per quanto riguarda il biglietto, tutto ciò che ci danno. Ok, tutto perfetto. L'organizzazione è bellissima. Un Natale è una festa, una festa in onore di Costanza e Blanca Leone Doria. È grazie a questo matrimonio storico che noi abbiamo l'appellativo appunto di Città degli Sposi. E quindi abbiamo voluto cogliere l'occasione delle festività natalizie per riprodurre, per ricreare delle atmosfere del Medioevo che appartengono alla nostra storia. È un percorso ricco di tante cose, oltre alle degustazioni, dei prodotti tipici. Naturalmente ci sono le installazioni artistiche e tanto altro. E devo dire, dalle reazioni delle persone, dall'affluenza di pubblico, davvero sono molto soddisfatto. Noi abbiamo già iniziato in estate con il torfeo storico, con le installazioni del centro storico, perché per noi, oltre alla riscoperta di quella che è la nostra storia, e quindi il Borgo di Calde e tutto il resto, naturalmente su questo stiamo investendo anche da un punto di vista di riqualificazione urbana, recuperando quel quartiere arabo all'interno del nostro centro storico, che da luogo degradato diventa un luogo di attrazione turistica di qualità. Ecco, la scommessa è questa e quindi questa organizzazione del Natale Medievale, diciamo, ricalca questa linea che abbiamo già introdotto anche con le giornate FAI, che tanto successo hanno riscorso a Siculiana. Bello, bellissimo, veramente, mi piace questa idea di utilizzare, diciamo, questi percorsi per riscoprire, diciamo, un po' le origini che ci sono. Abbiamo mangiato la ricotta, il formaggio, i crostini di pane, il panino con la salsiccia, bene bene. Complimenti a tutta la benissima. Mangiare è ottimo. È stato bellissimo, sì. E le cose del Medioevo era una cosa da non dimenticare. Bello. Magnifico. Magnifico. Grazie.